Io non sono in grado di predire il futuro, però dico al direttore De Manzoni che a mio avviso se finisce l'esperienza di questa legislatura io torno a casa dove mi aspetta una moglie, dei figli, un cane e un lavoro che amo. Quindi per quanto mi riguarda l'esperienza finisce qua. Ipotesi di maggioranza alternative? Geneticamente io non le vedo possibili, non si possono ipotizzare alleanze con un PD che ci ha fatto le barricate sul reddito di cittadinanza. La settimana scorsa Finmeccanica ci dice stiamo cercando 8 mila elettricisti e tornitori, chiede di qualificarli perché sono pronti all'assunzione. Io per mesi ho dovuto difendere il reddito di cittadinanza dicendo guardate che quella porta qualificazione. Non possiamo fare un'alleanza di governo con un partito che è contro il reddito il minimo orario, considerato che questo sta prendendo piede addirittura in Europa ed è applicato in 22 paesi. Insomma, se facessimo un'alleanza col PD io temo che avremmo un caso Siri, un giorno sì, un giorno no. E questo naturalmente non sarebbero le migliori premesse per poter iniziare una nuova esperienza di governo.